Ciao, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Feri ASMR, grazie per aver scelto questo video ASMR rilassante. Oggi voglio provare a farti addormentare facendoti ascoltare oltre alla mia voce naturalmente sussurrata alcuni suoni di oggetti tipicamente dedicati al mondo della scuola o della cartoleria e dell'ufficio in generale. Quindi approfittiamo di questo periodo in cui le vacanze sono naturalmente finite, è iniziato l'autunno e si torna alle attività scolastiche, universitarie oppure lavorative per provare un po' di ASMR. Intanto mi scuso per i rumori che potrete forse sentire in sottofondo ma oggi è una giornata veramente tentosa qui da me. Ci sono molte persone che stanno cercando di comprendere come mettere al sicuro le proprie piante o i propri bambini e quindi gridano inspiegabilmente. Ma noi cercheremo di creare un'isoletta felice, di relax e di calma. Perciò indossa le cuffie oppure gli auricolari, distenditi in un posto comodo dove potrai facilmente addormentarti. Metti un mi piace a questo video se l'idea ti piace e se vuoi supportare il mio canale e se non l'hai ancora fatto iscriviti cliccando la campanellina per non perdere i prossimi video rilassanti. Ah, un'altra cosa, ho un avviso molto importante per tutti voi. Da poco tempo ho iniziato a fare delle live, quindi delle dirette streaming sulla piattaforma di Bigo, Bigo Live. Spero che conosciate già questa applicazione che altrimenti potete scaricare oppure visualizzare anche, credo, direttamente dal PC. È però dal telefono, è sicuramente più comodo. E se volete andare a supportarmi, vi lascio qui il codice QR che potete scansionare per trovarmi su Bigo Live. È giù in descrizione il reminder di come mi chiamo anche lì. Comunque, semplicissimo, sono sempre veri ASMR. In questo periodo, come già ho detto nello scorso video, ho intenzione di fare alcune live lì, non ASMR, per condividere un po' qualche momento della mia vita. Perché sto traslocando e sto attraversando un periodo di cambiamenti. E quindi mi fa piacere poter essere vicino a voi, anche se non sempre potrò realizzare video ASMR. Quindi non perdetevi le live su Bigo e venitemi a cercare come veri ASMR anche di là. E niente, non mi resta che iniziare. Eccoci. Allora, ho scelto per questo video sette oggetti. Sette, 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 sette oggetti che se toccati nel modo giusto producono un suono veramente bellissimo. E come ti dicevo hanno tutti a che fare con il mondo della scuola in qualche modo. Scrivimi qui sotto tra i commenti quale di questi oggetti è stato il tuo preferito. Quale tra i suoni che hai ascoltato è il tuo preferito. E se ti va, suggeriscimi qualche altro oggetto da utilizzare la prossima volta, sempre con lo stesso demo. Allora, il primo, primo, che andiamo a utilizzare è il deperamatite. Avevo acquistato questo deperamatite da Tiger tanto tempo fa. E' in occasione delle feste natalizie. Manca ancora un po' a Natale, però mi piace. Quindi adesso vi faccio ascoltare il suono della matita che viene temperata. Tadam! un bello punto ne ho anche un altro qui vedete? vorrei che mi diceste anche che cosa vi ricorda ciascuno di questi suoni e dopo vi dico cosa ricorda a me per esempio il temperamatite eccola abbiamo temperato due matite una più piccola e una più lunga a me il temperamatite evoca un ricordo felice infatti quando ero agli alimentari c'era un unico modo per poter chiacchierare con i compagni senza essere iscrittati dai maestri e forse anche alle medie abbiamo adottato la stessa tecnica e questo metodo era quello di andare a temperare la matita al cestino comunicavamo di volerci parlare con questo gesto che significava andiamo a temperare per poter bollare ok secondo 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 suono questo lo avete già sentito una volta mi spiace ma non posso non inserirlo primo perché sono super orgogliosa di mostrare ogni volta questo oggetto secondo perché è diventato da quando ce l'ho uno dei miei trigger preferiti in assoluto ed è questo la spirale dell'agenda tra l'altro la trovate già in rifornimento su amazon quindi se la volete ordinate la mi raccomando trovate già nell'info box il link per accostarlo anche questo ovviamente evoca in me un ricordo felice perché acquistare il diario era il mio obiettivo principale durante l'estate e ero sempre super emozionata e quindi la spirale metallica di questo diario mi fa pensare a quello che trovavo di bello nella fine dell'estate nel dover tornare tra i banchi di scuola ma passiamo ora al terzo 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 oggetto ho scelto questo quadernino molto particolare di color arancione perché l'arancione mi mette di buon umore spero che anche tutti voi provochi lo stesso effetto questo è molto particolare ascoltanti ascoltanti anche ovun o ecco ce il si ci o o o o o Grazie. Vi faccio ascoltare anche un po'. Sono delle pagine. Spero nel modo più delicato possibile. Ovviamente la grammatura delle pagine di carta determina un suono sempre diverso. Durante il trigger delle flipping pages, dello sfogliare le pagine. Mi piace molto la carta dalla grammatura più fine quando però è scritta, quindi ricca di inchiostro. E quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo terzo oggetto. Ma andiamo avanti. Direi di utilizzare il quarto che è questo astuccio. Se mi seguite da un po' sapete che ne ho diversi di astucce perché mi piacciono. Questo però è uno dei miei preferiti perché l'ho fatto in questa stoffa di peluche. E' molto morbido. Inoltre l'ho riempito di pastelli e pennarelli quindi allontanandoci un po' dal microfono possiamo anche sentire il suono di questi colori che vengono mescolati. E poi. C'è il classico suono della zip. Che ne pensate di questo? Lasciatemi un commentino sotto con scritto quanto vi è piaciuto da uno 10. Arriviamo adesso al quinto oggetto di scuolo che ho scelto per voi. Ed è lo scotch. So che a molti non piace il suono della scotch. Quindi ho scelto quello di carta. L'astro adesivo di carta. che sicuramente fa un suono molto diverso. Gli tatui sottofondo. Purtroppo credo possiate ascoltare porte che sbattono ma è colpa del vento. C'è veramente tanto tanto vento. Ho provato a immaginarvi. Adesso solleverò questa pellicola adesiva. Purtroppo credo. Spero tu ti stia rilassato. Il nastro adesivo mi ricorda alcuni lavoretti che facevo durante le ore di educazione artistica. Ma più che mai ultimamente mi ricorda il trasloco, l'imballaggio degli scatoloni che sto facendo. Per vederle in modo positivo. Ragazzi non vedo l'ora di cambiare casa e di abbandonare questo condominio così rumoroso. Spara davvero che nell'altro ci sia molto più silenzio. Passiamo adesso al sesto giotto che ho scelto ed è il famoso bianchetto. Questo l'ho scelto soprattutto per fare un po' di lid sounds. Perché il tappo mi sembrava molto triggeroso. Il bianchetto mi ricorda che c'è sempre un modo per rimediare agli errori. E poi so che non fa bene annusare l'odore del bianchetto. A me piace troppo. Non fatelo mi raccomando. La mia piccata a non vado più forte ha Ralph Shaggynsta, come vi è sembrato in ultimo il settimo oggetto che ho scelto e mi raccomando vi invito di nuovo a scrivere qui sotto altri oggetti interessanti dei quali vorreste ascoltare il suono in un mio prossimo video una cosa un po' strana ma che personalmente ho adorato quando ho ascoltato il suo suono ed è questa carta con sopra gli adesivi e alcuni di questi adesivi li ho utilizzati per decorare la mia agenda penso che sia qualcosa che facciano in molti quella di utilizzare adesivi per decorare appunto il diare e adesso vi faccio ascoltare delicatamente giusto per un po' il suono in questa plastica e adesso vi faccio ascoltare non so se possiate apprezzarlo è un suono sicuramente molto particolare però a me piaceva tanto e ho voluto inserirlo bene, aspetto di leggere qui sotto nei vostri commenti quale di questi suoni vi sia piaciuto di più vi auguro nel frattempo un buon ritorno alle vostre attività autunnali e se avete voglia di acquistare il diario agenda guardate nell'info box perché vi lascio il link a amazon e per il resto niente noi ci vediamo come al solito se vi va nel prossimo video bacini fatosi grazie a tutti Grazie a tutti.